tra poco arriva la fede e ve lo faremo vedere dal vivo da 350 a 400 dai numeri da pozzino 350 a 400 devi mangiare il tifino e più quanti chiedi ci saranno 1.500 1.400 1.500 5 1.700 l'asta è aperta 1.600 1.700 a chi può chiedere a terra a nessuno ma perché no sì tu 1.700 allora vieni qua la faccio fare su 1.800 1.800 non mi dite che c'è 1.800 veramente io vedo una c'è l'impianto che non è centesimo amore non tutto si può fare mamma ragazzi siccome ci vuole l'epoca per i millenoti 2.000 2.000 non vuoi chiedere al signore ragazzi tu continuiamo 3.000 allora 2.000 vieni qua e allora mi faccio così quanto? 4.000 e la troviamo su internet e lo voglio scoprire prima di aspettare mezzanotte beh ragazzi questo è youtuber siamo in attesa di Fede quando arriva non ce la faccio voglio vedere però 2, 3, 4, 5 qualcuno vuole venire però vabbè mi sto dicendo sì